Buongiorno cari lettori, è un'estate golosa, un'estate golosa ve l'auguriamo con il nuovo sale e pepe dove abbiamo messo tutti i sapori dell'estate. A partire naturalmente dalla copertina dove vedete abbiamo parlato di peperonate, non solo, peperonate alle altre, quindi tutti i mix di verdura che si fanno in tutte le regioni italiane e che a volte si assomigliano peperoni, melanzane e zucchine messi assieme. Ma non solo, per chi va al mare sicuramente ci sarà la possibilità di assaggiare tante zuppe di pesce, noi ve ne abbiamo proposte tante, di tradizione, meno di tradizione, con pesci senza spine, molluschi oppure quelle classiche, classiche che si mangiano sempre un po' con difficoltà ma che sono gustosissime. Tra le cose più golose ci sono i fritti e niente di meglio che insegnarvi le ricette dei fritti napoletani, quindi panzarotti, pizzelli, ripiene di mozzarella, di acciuga o meno, ne abbiamo fatto un servizio intero che ha ingolosito soltanto che a vederlo. E visto che siamo prossime agli Olimpiadi abbiamo pensato di darvi uno spunto diverso per invitargli amici a casa e invitarli con un menù a base di piatti inglesi, ve ne proponiamo 4-5. La pasta l'abbiamo interpretato nella maniera più classica che ha aglio, olio e peperoncino, ma naturalmente sembra difficile un piatto solo aglio, olio e peperoncino, no, noi ve ne abbiamo fatto 5, tutti diversi uno dall'altro. La frutta tanta e buonissima quella estiva, non ce ne possiamo dimenticare, l'abbiamo usata per fare delle torte che sono torte un po' contadine, quindi rustiche, ma piene di sapore perché hanno dentro albicocche, pesche e tutta la frutta buona dell'estate. E poi ancora, tanto altro, tanto altro, siamo andati in giro, siamo andati sulla laguna di Grado dove c'è una bellissima spiaggia, magari molti di voi avranno l'occasione di andarci, vi raccontiamo che cosa vedere in quei posti e anche che cosa mangiare. In più siamo andati a fare un altro giretto divertente che è quello per i parchi italiani, ne abbiamo scelti tre a caso, che sono uno in montagna, uno al centro e uno proprio in Sicilia, che sono tra parchi fluviali oppure montani dove però c'è la possibilità di assaggiare sul posto i prodotti locali. E poi che dire, ancora tantissimo altro nelle nostre rubriche, parliamo di barbecue, parliamo di libri, parliamo di food blogger, parliamo di tantissimo, tutto, tutto, tutto legato all'estate. Grazie.